Il Morale non assiste alla squadra di Ballardini, intanto c'è questo incredibile... Che gol! Che gol! Gli ha fatto un gol straordinario perché è bravissimo per seguire l'appoggio della torre, gli ha stoppato, non poteva calciare prima e sembrava molto defilato. Meglio di Maradona e Beckham! Questo è un gol che farà il giro del mondo!